salve a tutti e bentornati sul nostro canale in questo video vi daremo tutti gli elementi utili quelli che ancora non conoscete per non sbagliare la vostra offerta di acquisto dopo tutti i corsi che avete seguito i video che avete guardato su youtube eccetera siete finalmente pronti per comprare uno o più immobili all'asta a questo punto non vi resta che presentare l'offerta di acquisto ma è proprio in questo momento che probabilmente scoprirete che tutto ciò che avete sentito dire in giro e cioè che per presentare l'offerta è sufficiente stampare compilare un modulo non è poi tanto vero ed infatti all'atto pratico tanti sono i dubbi che vi assaliranno per vostra fortuna siete arrivati sul canale giusto riflettevo che in effetti dell'offerta di acquisto se ne parla sempre al singolare genericamente e forse è proprio questo che induce a credere che l'offerta sia unica e sempre uguale ma in realtà non è così abbiamo infatti l'offerta per persona fisica l'offerta proveniente da una società l'offerta multipla l'offerta per più lotti l'offerta per persona da nominare l'offerta per minore interdetto inabilitato l'offerta con manifestazione di interesse quella con invito ad offrire l'offerta telematica e l'offerta analogica infine e spero di non averne dimenticata qualcuna domanda di partecipazione e attenzione perché tutti questi tipi di offerta non sono tra di loro sinonimi sicuramente ciò che è di fondamentale importanza per scegliere per compilare e per documentare correttamente un'offerta analogica cioè cartacea o telematica che sia è l'avere chiari questi quattro punti a chi per quanti per quali e come e cioè a chi voglio che sia intestato l'immobile all'asta nel caso di vittoria della gara soltanto a me a me a mia moglie alla mia società eccetera eccetera sappiate che dopo la giudicazione non si può modificare il soggetto indicato nell'offerta come l'intestatario dell'immobile 2 con quante persone avete intenzione di acquistare l'immobile pignorato lo compro da sola o in comproprietà per esempio con i miei fratelli e se lo compro con più persone posso fare intestare a me la nuda proprietà e agli altri l'usufrutto oppure è possibile intestare a me la proprietà del 50 per cento e la restante metà ai miei due fratelli 3 di quell'asta di di quell'avviso di vendita quanti immobili vorrei e potrei acquistare uno solo l'uno l'altro o addirittura più di uno 4 mi crea problemi l'idea che si venga a sapere che ho depositato un'offerta per comprare quel dato immobile o preferisco che nessuno sappia che sto partecipando a quella data asta iniziando dall'offerta per persona fisica che poi è quella che possono presentare tutti i soggetti cioè tutti noi che al momento della nascita veniamo riconosciuti come persona fisica persone fisiche dallo stato cosa posso dire di nuovo che ancora non conoscete giusto per non essere banali e ripetitivi per esempio che spesso sento dire che tutti possono presentare l'offerta tranne il debitore spero di sorprendervi positivamente dicendo invece che anche il debitore può presentare un'offerta di acquisto quando nel caso in cui per esempio pur essendo coobbligato non è però esecutato e non è quindi parte di quel processo esecutivo ancora può essere offerente anche il comproprietario non debitore dell'immobile pignorato vi ricordo infine che non solo il figlio ma anche il coniuge del debitore esecutato può presentare l'offerta di acquisto in quell'asta che vede purtroppo soggetto pignorato il proprio marito o la propria moglie e può presentare l'offerta anche il coniuge che sia il regime di comunione legale con il debitore ovviamente il coniuge non potrà presentare l'offerta di acquisto quando anche lui è debitore esecutato e a proposito di coniugi come vi dovete regolare quando desiderate partecipare all'asta ma siete coniugati dovete innanzitutto chiarire se in caso di aggiudicazione dell'immobile volete che questo sia anche di vostro marito o di vostra moglie in caso affermativo se siete coniugati il regime di comunione legale vi basterà indicare nell'offerta i dati della vostra dolce metà e depositare anche il suo codice fiscale e la sua carta d'identità in questo caso non è infatti necessario che il coniuge firmi l'offerta né che depositi una procura notarile con la quale indichi soltanto voi come sottoscrittore della comune offerta se invece partecipate all'asta per comprare un immobile che sarà solo di vostra proprietà e non anche del coniuge se siete sposati il regime di separazione dei beni basterà indicare ciò nell'offerta e poi documentare tale stato anche dopo l'aggiudicazione se invece siete sposati il regime di comunione legale ma in caso di aggiudicazione pagherete con soldi soltanto o vostri perché per esempio provenienti da un'eredità è necessario allegare all'offerta una apposita dichiarazione del coniuge autenticata da un pubblico ufficiale con cui vostra moglie o vostro marito attestino che l'immobile un vostro bene personale o comunque che attestino di voler escludere il bene dalla comunione legale e se invece voleste partecipare all'asta con più persone in caso di vittoria della gara sareste con proprietari ora se partecipate alla gara come persone fisiche e cioè se sempre in caso di aggiudicazione voleste far intestare l'immobile aggiudicato a voi a mario rossi e a maria verde l'offerta sarà sì formulata da più persone quindi con i dati di tutti voi ma potrà essere sottoscritta da uno solo degli offerenti fate però attenzione perché nel caso in cui la modalità di vendita è la sincrona mista e quindi gli offerenti possono presentarsi di persona all'apertura delle buste sarà sufficiente dichiarare al delegato chi tra voi è incaricato di fare i rilanci e di parlare per gli altri se invece optate per il deposito dell'offerta nella vendita telematica in caso di offerte con più persone all'offerta dovrete allegare anche in copia per immagine la procura redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata quindi dal notaio rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica in caso di vittoria vi renderete a giudicatari del bene pignorato e messo all'asta pro quota ed in parti uguali nell'offerta potrete però chiedere di distribuire le quote in maniera diversa per esempio a chi il 50 per cento e a chi il 25 per cento e tali indicazioni verranno poi riportate nel decreto di trasferimento ciò significa che sarete con proprietario dell'immobile al 50 per cento al 30 per cento eccetera ma molti di voi continuano però a chiedersi se dell'immobile messo all'asta sia possibile acquistare diritti diversi cioè a dire se nel caso di vendita della piena proprietà due offerenti possano presentare un'offerta in cui dichiarano di voler comprare l'uno la nuda proprietà l'altro l'usufrutto beh la questione è ancora controversa in ogni caso tale opzione sarà possibile quando ammessa da quel determinato giudice solo nel caso in cui si venda la piena proprietà e non per esempio la nuda proprietà e sempre che gli offerenti acquistino comunque l'intero diritto messo all'asta in altre parole se il diritto messo all'asta è la piena proprietà dell'immobile voi non potrete fare un'offerta per aggiudicarvi il solo diritto di usufrutto o il solo 30 per cento dovrete comunque essere un gruppo di persone presentare insieme un'offerta unica per partecipare all'aggiudicazione dell'intera proprietà e poi eventualmente sempre in sede però di sottoscrizione dell'offerta decidere di distribuire tra voi offerenti le diverse quote o i diversi diritti se invece voi mario rossi e maria verde cioè la pluralità di persone voleste acquistare l'immobile in qualità di soci il che significa che in caso di vittoria dell'asta l'immobile verrebbe trasferito ed intestato alla società e non già voi a mario rossi e a maria verde l'offerta non dovrà essere sottoscritta dai singoli soci ma solo da chi ha il potere di agire in nome per conto della società e insieme all'offerta dovrete poi allegare i documenti che attestino tali poteri documenti che attenzione non si riducono alla sola visura camerale seppur storica in corso di validità da cui risultino formalmente i poteri di colui che parteciperà all'asta per conto della società ma che variano a seconda del tipo di società per esempio un conte se la società offerente è una società di capitali un conte se la società offerente è una società di persone ma soffermiamoci ancora un attimo sull'offerta per conto della società sto per darvi una chicca può presentare l'offerta di acquisto di un immobile pignorato anche la società di cui l'amministratore sia lo stesso debitore ma continuiamo se poi in quella data asta che avete individuato foste interessati ad acquistare più immobili avrete la possibilità di presentare un'offerta multipla o per più lotti vi preciso che l'offerta multipla o per più lotti generalmente considerate la stessa cosa a mio sommesso avviso e quindi non prendete per oro colato ciò che vi sto dicendo sono in realtà due diversi tipi di offerta più precisamente l'una sia quando l'offerente partecipa per aggiudicarsi alternativamente o l'uno o l'altro lotto l'altra quando invece l'offerente partecipa per aggiudicarsi più lotti di quell'asta ad ogni modo queste offerte che non sono disciplinate e regolate dai codici sono le più complicate da gestire proprio da un punto di vista strettamente pratico anche per il delegato quindi figuriamoci per l'offerente quindi sul punto i consigli che sento di darvi per il momento sono due il primo è quello di chiedere l'aiuto di un avvocato esperto il secondo è di andare a vedere innanzitutto se nell'asta giudiziaria che avete scelto tale offerte siano ammesse e passiamo ora all'offerta per minore interdetto inabilitato se l'offerta viene presentata in nome per conto di un minorenne potrà essere sottoscritta digitalmente solo da uno dei genitori previa autorizzazione del giudice tutelare mi raccomando occorre allegare copia del provvedimento di autorizzazione che quindi avrete dovuto chiedere se i genitori ovviamente prima e con largo anticipo sulla data dell'asta altrimenti rischiate di avere problemi in fase di apertura delle buste e non dimenticate neppure di allegare il documento di identità ed il codice fiscale sia nel vero soggetto offerente cioè il minore sia del soggetto che sottoscrive l'offerta se poi l'offerente un interdetto un inabilitato o un beneficiario di amministrazione di sostegno beh l'offerta deve essere sottoscritta dal tutore o dall'amministratore di sostegno ma anche in questi casi è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare e i documenti di identità sia dell'offerente che del sottoscrittore per rimanere nell'ambito delle aste indette all'interno delle procedure di espropriazione immobiliare individuale vediamo ora cos'è la domanda di partecipazione in pratica è quella che si deve redigere quando la modalità di vendita di quell'esperimento d'asta è la vendita con incanto vi ricordo che ormai si seguono le regole della sola vendita senza incanto tuttavia in ipotesi residuali la vendita con incanto resiste la domanda di partecipazione si caratterizza principalmente per il fatto che viene depositata in busta aperta è meno formale e soprattutto non vincola l'offerente all'acquisto dell'immobile difatti a differenza che nell'offerta di acquisto quando è consentito presentare la domanda di partecipazione l'offerente per aggiudicarsi l'immobile dovrà comunque fare un rilancio e non potrà restare al giudicatario nel caso di sua assenza il giorno della gara per il resto e cioè nel contenuto è identica all'offerta di acquisto e quindi per esempio anche le domande di partecipazione possono essere presentate da più persone eccetera a questo punto credo che qualcuno di voi abbia intuito che l'offerta con manifestazione di interesse e o l'offerta con invito ad offrire non è un tipo di offerta ammissibile e praticabile nell'ambito dei giudizi di espropriazione immobiliare ma riguarda le sole aste giudiziare che si tengono in ambito fallimentare quindi data la loro diversità rispetto alle prime verranno trattate in altro momento mi raccomando seguiteci anche su facebook e su instagram dove ci trovate come studio legale iocca chiappetta